Salve a tutti ragazzi, oggi voglio parlarvi di uno dei cantautori più raffinati della musica italiana, Tiziano Ferro. Ciò che contraddistingue questo artista è la sua straordinaria capacità di mettere in rima e giocare con le parole all'interno delle sue canzoni. Tiziano Ferro utilizza la grammatica per poterla scomporre e far così dei suoi brani dei pezzi davvero molto particolari. Il tutto inserito in armonie mai invasive fanno di questo artista uno degli ultimi esponenti della musica di successo. A tal proposito volevo ricordarvi che a breve uscirà un mio videoclip musicale nel quale canterò al pianoforte proprio un midlay di Tiziano Ferro. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, Ippolito Official, a seguirmi sulla mia pagina Facebook, Instagram e Twitter. Un saluto a tutti quanti voi, un bacio e al prossimo video. Ciao ragazzi!